Con l'addio allo status di senior member della famiglia reale inglese, per Harry e Meghan cambieranno molte cose. A cominciare da un netto calo dei privilegi a cui sono abituati. Si parte dalla loro residenza a Frogmore Cottage. La tenuta resterà di loro proprietà, ma dovranno rimborsare tutte le spese sostenute dai contribuenti per la ristrutturazione. Novità anche nel campo di staff e sicurezza, i cui costi ora saranno sulle spalle di Harry e Meghan. Autofinanziamento anche per i viaggi, che non saranno più etichettati come Royal Tour. Si passa quindi al capitolo gioielli. Meghan non avrà più a disposizione quelli della corona, né tantomeno la tiara utilizzata nel giorno del suo matrimonio con Harry. E infine, Harry e Meghan dovranno dire addio anche all'accordo tra i reali e la stampa britannica, che prevede il divieto di pubblicare foto paparazzate della Royal Family. Harry e Meghan, passando allo stato di semplici celebrities, dovranno attrezzarsi e guardarsi le spalle dai fotografi di tutto il mondo.